buonasera nemici miei sono su kamikatsu kun e torniamo a parlare delle carte di teros spoilerate sul sito ufficiale da wizard in italiano questa volta parliamo del verde mi scuso se ci ho messo molto a ripostare questo video ma ho avuto dei problemi personali e quindi non ho potuto pubblicare altri video speriamo di riuscire a pubblicare video in tempo utile ma probabilmente l'espansione sarà già disponibile su arena quando usciranno tutti però visto che ho iniziato finiamo il lavoro che ho iniziato e parliamo del verde che era già un colore estremamente forte nel meta e vedremo se è potenziato probabilmente sì ma adesso valutiamo iniziamo con arasta dalla ragnatela infinita quattro umana due in colori due verdi creatura incantesimo leggendaria ragno oltre 5 con raggiungere tipico ragno ma questa qui ha in più che ogni qualvolta un avversario lancia una magia istantanea o stregonaria crea una pedina creatura ragno 1 2 verde con raggiungere devo essere sincero mi piace parecchio però non so quanto possa essere forte questa carta sicuramente il limited è da prendere a mani basse i ragni con raggiungere sono sempre delle buone scelte magari non prime scelte però a volte ad avere raggiungere essere un buon bloccante quindi un 3 5 anche la possibilità di crearti valore se il tuo avversario usa una rimozione o qualcos'altro per eliminarla oppure se non ha carte per eliminarla magari usa un pescaggio un'aura no un'aura solo istantanea stregonaria usa un pescaggio un account per qualcosa tu crei un 1 2 quindi nella peggiore di ipotesi se ti crea una pedina ragno 1 2 verde con raggiungere comunque ha già fatto parecchio valore e inoltre è un incantesimo e nel set ci sono buone sinergie con gli incantesimi quindi il limited secondo me è un 3 mezzo 4 ovviamente se avete sinergie con gli incantesimi è un 4 su 5 in constructed non penso che troverà spazio però non è mai detto mi piacerebbe fare un tribale rani e ovviamente questa carta qui potrebbe essere molto efficace in quel contesto quindi direi che in constructed è un 2 su 5 2 e mezzo dai e può essere anche un comandante in brodo ma non so quanto quanto possa essere efficace ci sono comandanti migliori continuiamo la sottomissione dei titani due mana uno in coloro non verde una saga non comune in primo capitolo ogni giocatore mette nel proprio cimitero le prime tre carte del proprio primorio quindi in una strategia di self millaggio ci sta inoltre milla anche l'avversario che può essere uno svantaggio se ha carte con fuga però il secondo capitolo ci dice che esiliamo fino a due carte bersaglio dai cimiteri per ogni carta creatura esiliata in questo modo guadagniamo un punto vita che la vita è un nice un buon bonus ma non è il punto focale diciamo che esiliando millando di tre possiamo andare col secondo capitolo a esiliarli le carte che hanno fuga e quindi eliminare un problema futuro col terzo capitolo riprendiamo in mano una carta creatura o terra bersaglio dal nostro cimitero non è una prima scelta secondo me in costa è il limited ma alla fine ti dà valore se avete una strategia che riguarda il cimitero avete carte con fuga può avere senso tenerla e inoltre è una buona risposta col capitolo 2 ha le carte con fuga in più ti fa riprendere una creatura o una terra dal cimitero che quindi ti dà un vantaggio carte anche se noi la mettiamo al secondo turno ce lo dà al quinto turno che no al quarto turno scusate al quarto turno ci dà una creatura che non è malvagia è un 3 su 5 in in limited e in constructed in alcune strategie di reanimator col verde potrebbe starci però il secondo capitolo non è molto rilevante in quel caso e da valutare però è un 2 2 e mezzo secondo me ok continuiamo arachnir della tela di catene un mala verde un 1 2 col raggiungere creatura ragno non comune quando l'arachnir delle tele di catene entra nel campo di battaglia infligge danno pari alla sua forza a una creatura bersaglio con volare controllata da un avversario quindi è un po come il fiociniere il 3 2 che entra con 2 che quando entra lotta con una creatura con volare bersaglio e prende più 1 più 0 per ogni creatura nel cimitero ma in questo caso il nostro arachnir non lotta ma infligge danno pari alla sua forza a una creatura bersaglio con volare quindi non morirà nel caso dovesse infliggere andare a colpire una creatura più grossa di lui un 1 2 non è che uccide tanta roba sinceramente però ha la fuga che per 5 emana 3 in colori 2 verdi esilia altre 4 carte dal tuo cimitero e la possiamo rimettere in campo e fugge con 3 segnalini più 1 più 1 quindi significa che diventa un 4 5 che riattiva l'effetto di che quando entra in campo di battaglia lotta con una creatura con volare bersaglio controllata da un avversario e quindi con avendo una forza 5 può andare a eliminare robe ben più grosse e poi può essere utile nei primi turni e può essere utile nei turni successivi se l'andiamo a riutilizzare quindi secondo me questa è una buona carta e io direi che è un 3 e mezzo 4 sinceramente a me piace è un buon bloccante iniziale considerando che il limited e le creature con volare sono sempre noiose molto evasive questo ci dà un bloccante e eventualmente nei turni più avanzati è una minaccia che può ritornare dal cimitero quindi è un 3 e mezzo 4 e in costratted un po' di meno ma secondo me ha del potenziale anche in costratted e gli do un bel 3 continuiamo filatrice del destino due mana uno in colore uno verde è un 2 e 3 creature incantesimo umano non comune è un incantesimo quindi è un più e poi dice le magie creature incantesimo che controlli non possono essere neutralizzate quindi è ehm molto utile in costratted contro simic flash ez flash mono blue tutti quei mazzi che ehm hanno una strategia di counteraggio se riusciamo a metterla a terra per l'avversario diventa difficile ehm neutralizzare le nostre creature o i nostri incantesimi umano che non la rimbalzi e poi lei è un 2 e 3 quindi ottime statistiche per il costo di mana inoltre ha un'abilità attivata per tre mani in colori uno verde una terra bersaglio che controlli diventa una creatura elementale ehm xx contravolgere e rapidità fino alla fine del turno dove x è il numero di incantesimi che controlli quindi se c'è solo lei in campo quella della terra diventerà un 1-1 contravolgere e rapidità se invece abbiamo diversi incantesimi in campo comincia a diventare un'eventuale win condition soprattutto in in limited è una minaccia che può sbucare fuori dal nulla e secondo me può essere un'abilità molto utile in limited quindi io ehm sinceramente la prenderei ehm al volo quando ehm se mi spunta una filatrice il destino la prendo al volo è un 3 e mezzo secondo me e il limited è un'ottima è un'ottima creatura incostracted ma anche in sideboard secondo me può trovare sposto ehm grazie alla sua abilità passiva che le creature e le magie di creature incantesimi non possono essere counterate quindi ehm diciamo che è un 3 in incostracted uuuuh questa è proprio la rotta come carta triade del boschetto di lisia 3 mana 2 in colori 1 verde è un 2-4 creature incantesimo ninfa c'è qualcosa che non quadra triade ninfa triade ninfa c'è il tipo di creature triade in magic e ci sono anche in standard delle triade ehm c'è qualcosa che non quadra perché non è una triade vabbè a parte questo questo what the fuck ehm ha una simpatica passiva che puoi giocare una terra addizionale in ognuno dei tuoi turni dei tuoi turni ok quindi ehm ci permette di ehm giocare due terre per turno per nostro turno e le terre che controlliamo hanno tutti i tipi di terra base in aggiunta ai loro tipi quindi significa che ogni terra è una montagna una foresta una palude un'isola e una pianura quindi significa che ci fixa completamente il mana punto primo ma significa anche che in combinazione ad esempio con Nissa tutte le terre sono foreste anche e quindi ci aggiungono un mana verde addizionale quando le andiamo a tappare e quindi diventa parecchio pericolosa la situazione e penso che è una carta che troverà parecchio gioco perché ha un buon corpo un 2 e 4 ma ha un effetto potentissimo inoltre è una creatura incantesimo quindi se ci sono sinergie con gli incantesimi questa le fa triggerare e beh è una bomba in qualunque formato sia in constructed che in limited diciamo che in limited magari un po' di meno però ha il vantaggio che se giocate più colori limited deve risolvere il problema del mana quindi direi che limited è un 3 e mezzo incostracted è un 4 4 e mezzo secondo me è una bomba che sicuramente diventerà stabile nei mazzi top tier che giocano al verde e anche se tre mana sembrano tanti però l'effetto è talmente potente che in combinazione ad esempio con nissa ci permette di castare delle magie gigantesche senza sforzi mi fa paura questa carta mi sa che è la carta che potrà far bannare nissa o magari banneranno prima la droga chi lo sa i primi giochi di hero assa una carta dal sapore olimpico considerando che siamo nel 2020 quest'anno ci sono le olimpiade a tokyo quindi ci sta alla grande magari farò un mazzo tematico però c'è solo questa carta devo ragionarci bene comunque è una saga due mana in colori uno verde primo capitolo crea una pedina creatura soldato umano uno uno bianca e quindi con la quest'inbist ci sta bene perché la fa no la quest'inbist scusate la bestia innamorata la fa attaccare vabbè non è così giocata la bestia innamorata però è da tenere presente che ha questo effetto secondo capitolo metti tre segnalini più uno più uno su una creatura a versaio eventualmente sulla nostra pedina la possiamo far diventare un 4-4 e poi al terzo capitolo se controlliamo una creatura con forza pari o superi a 4 peschiamo due carte e beh niente male e poi al quarto turno creiamo una pedina oro che praticamente come una pedina tesoro la sacrifichiamo possiamo sacrificare l'artefatto pedina oro e aggiungiamo mana di qualsiasi colore beh questa carta ti dà un sacco di valore quindi è una bombetta secondo me bella forte sia il limited no in cosette non so quanto possa trovare gioco probabilmente un mazzo in tantesimi ha già più senso rispetto ad altre cose però ci crea un bloccante che possiamo eventualmente pompare oppure pompiamo un'altra creatura e se controlliamo poi una creatura con forza 4 peschiamo due carte che è tanta roba e in più ci aggiunge un mana opzionale al se giochiamo questa cosa al sesto turno diciamo che può essere utile beh direi che il limited io la prenderei sempre la vedo è secondo me un 4 e mezzo in constructed è da valutare secondo me ha potenziale ed è un 3 e mezzo comunque fino ad ora abbiamo visto solo carte forti secondo me mi sa che il verde è ancora più sgravato mi sa che comunque continuiamo dono della forza istantaneo due mana uno in colore uno verde una creatura balsaglio prende più 3 più 3 raggiunge fino alla fine al turno mi pare che sia una ristampa che ci sia già in standard una carta del genere comunque il limited ci può stare come filler io non ne prenderei tante e di sicuro non prima scelta è un 2 2 e mezzo a seconda delle situazioni però c'è da dire che ci sono anche carte con eroismo che ogni qual volta questa creatura viene bersagliata dalla magia tutte le altre creature prendono più 1 più 0 quindi se siete con la strategia può aver senso però non è proprio il massimo è un trick che può essere utile per rimuovere una creatura bloccante o attaccante però non è niente di più quindi non investiteci troppo è un 2 2 e mezzo a seconda delle situazioni in constructed ci sono carte migliori sinceramente crescita dell'idra 3 mana 2 in colori 1 verde incantesimo aura incanta creatura quando la crescita dell'idra entra nel capo di battaglia metti un segnalino più 1 più 1 su una creatura incantata all'inizio del tuo mantenimento raddoppia il numero di segnalini più 1 più 1 sulla creatura incantata beh è parecchio forte perché non da sola ovviamente da sola non è proprio il massimo della vita però c'è da dire che la nostra creatura sopravvive a lungo diventa sempre più grossa e minacciosa ma in combinazione ad esempio con altre creature che hanno già segnalini più 1 più 1 diventa estremamente pericolosa immaginiamo ad esempio l'idravorace no 2 mana x che entra con x segnalini in campo e possiamo raddoppiarli oppure combattere con una creatura ma ipotizziamo che è entrata come 4-5 la incantiamo con questo crescita dell'idra gli mettiamo un segnalino più 1 più 1 su di essa diventa un 5-6 e all'inizio del nostro mantenimento per il turno successivo diventa raddoppiamo il numero di segnalini sulla creatura incantata e quindi diventa un 10 12 capite che comincia ad essere pericolosa la cosa e quindi ha il potenziale di essere una carta molto interessante in limited direi che se avete strategie di incantesimi ci può stare ma in limited è molto peggio rispetto in costa perché non so quanti segnalini più 1 più 1 più 1 si possono mettere c'è eliod ad esempio ma dovreste andare in bianco verde e lì è da valutare secondo me è un il limited è un 2.5-3 in costa secondo me questo è un 3.5-3.5 nel mazzo prolifera può essere pericolosa però costa parecchio c'è da dire questo esploratrice della torre di Irax tre mana due incolori uno verde è un 3-3 e quando l'esploratrice entra nel campo di battaglia stappa una cattura di bersaglio è un 3-3 sincero costa tre mana per tre di forza e tre di costituzione è onesto diciamo e in più ha un simpatico bonus ma che non è niente di che eventualmente noi possiamo attaccare con una cattura e all'inizio della nostra fase finale possiamo giocarla e poi stappare con la cattura che ha attaccato è come se non avesse avuto cautela però non è niente di più sostanzialmente ci sta come filler non è niente di saltate è un 2-5 è un esploratore o un'esploratrice onesta carriati di ilisia due mana uno in colore uno verde creatura pianta è un 1-1 aggiungi un mana di qualsiasi colore tappandola se controlli una creatura con forza pari o superiore a 4 aggiungi invece due mana di un qualsiasi colore beh ci sta sia il limite che incostrate il limite soprattutto perché ti fixa il mana perché ti aggiunge un mana di qualsiasi colore e poi se avete una strategia in cui avete creature grosse ti permette di aggiungere due mana che è un ottimo rampaggio quindi magari non prima scelta ma se andate su più colori può avere un senso come ramp è un 2 e mezzo 3 diciamo 3 3 ci sta tutto in constructed è un po' lento come mana d'orc c'è la duida del paradiso che ti aggiunge un mana di qualsiasi colore ed è un 2-1 e ha anti-malocchio che è un'abilità molto importante in meta attuale questo qui è solo un 1-1 muore per un colpo di vento e non è garantito che riusciate a utilizzarla e che vi faccia ottenere il valore per cui avete pagato il mana quindi non costrettene da valutare direi che è un 2-2 e mezzo ha del potenziale però ha una costituzione troppo bassa e muore per qualsiasi cosa non ha anti-malocchio quindi è svantaggiato rispetto ad altri mana d'orca ok andiamo avanti incutere soggezione 4 mana 3 in colori 1 verde è un istantano previeni tutto il danno a combattimento che verrebbe inflitto in questo turno tranne il danno a combattimento che verrebbe inflitto da creature incantate e creature incantesimo perfettizza 2 non mi piace neanche un po' è una fog una trappola di radici super costosa quindi estremamente scomoda da tenere 4 mana aperti in verde e poi se l'avversario ha creature incantesimo o creature incantate non previene il danno eventualmente penso che sia pensata per utilizzarla in maniera offensiva quindi noi attacchiamo con le nostre creature incantesimo o incantate il nostro avversario non può danneggiarle e quindi attacchiamo impunemente magari facendo danni e poi profetizziamo anche 2 però no è un 2 massimo io non la prenderei mai solo se fossi disperato sinceramente non mi sembra granché costa troppo e il suo effetto non è il massimo ed è troppo situazionale profetizza 2 ci sta ma non è tutta sta gran cosa quindi no disegno di Clotis 6 mana 5 incolori 1 verde è una stregoneria le creature che controlli prendono più x più x fino alla fine al turno 9 x separi la tua devozione al verde anche questa è una carta di m di merda perché non da travolgere quindi facciamo diventare le nostre creature grossissime ma non hanno travolgere e quindi ce le cian bloccano e allora abbiamo speso 6 mana 6 mana per nulla sì che al sesto turno probabilmente la nostra devozione sarà parecchio grossa diciamo che gli diamo più 5 più 5 però sì in alcuni casi ti può aiutare a chiudere il gioco quindi sì ci sta se non ha abbastanza bloccanti puoi fare quei danni che ti mancavano però se i mana sono parecchi e non ti da il travolgere che servirebbe questa carta chiede il travolgere e non ce l'ha quindi è un 2 e mezzo in limited potete prenderla ma non troppe ed è una carta che si può tagliare può essere può portarti la vittoria ma può anche essere una carta morta che costa troppo e non riusci a castare quando la castata non serve a nulla e quindi 2 e mezzo in constructed ovviamente non può trovare gioco chimera raccapricciante 3 mana 2 incolori 1 verde è una creatura chimera 4 1 è un 4 1 che entra per 3 le statistiche non sono eccezionali l'uno di costituzione è un po' basta un colpo di vento e muore però ci sono diverse sinergie con le creature con forza 4 quindi costa 3 mana quindi può aiutare in quel senso e in più ha fuga per 5 mana 4 incolori 1 verde e dobbiamo esiliare altre 3 carte dal nostro cimitero e rimettiamo in campo la chimera che fugge con un segnalino più 1 più 1 diventa un 5 2 un 5 2 ci sta per 3 ma ma si un buon filler è una comune quindi anche se non la prendete subito avete probabilità di ritrovarla nella vuota io direi che è un 2 e mezzo dai in limited in constructed non penso che troverà gioco a meno che non venga fuori un archetipo fuga però penso che per 5 mana c'è di meglio come fuga ed è un 1 e mezzo in constructed mantello del lupo 4 mana 3 incolori 1 verde è un incantesimo aura incanta creatura la creatura incantata prende più 4 e più 4 beh è un ottimo bonus però costa 4 mana ma non è finita qui quando il mantello del lupo viene messo in un cimitero dal campo di battaglia crea due pedine creature lupo 2 2 verdi quindi ti aiuta a sopperire allo svantaggio delle aure lo svantaggio delle aure è che quando noi incantiamo una creatura l'avversario ha un bersaglio perfetto per farci fuori due carte con una rimozione e quindi molto spesso è un 2 per 1 che è molto svantaggioso per noi noi perdiamo due carte e lui ne ha investita solo uno ma in questo caso se il mantello del lupo viene messo nel cimitero dal campo di battaglia quindi la nostra creatura viene eliminata creiamo due creature lupo 2 2 verdi che non è niente male quindi come se avessimo guadagnato non avessimo perso due carte perché abbiamo acquisito due pedine lupo che possono essere utili a finire l'avversario e continuare ad attaccarlo oppure a bloccare quindi diciamo che non è malvagia costa un pochettino ma comunque il costo diciamo che è equo considerando quello che questa carta fa c'è da dire che solo nel caso il mantello va nel cimitero dal campo di battaglia crea le due pedine se ce la scartano o la counterano questo non succede quindi è da tenere a mente questo però nel compresso una buona carta io direi che non la prenderei come prima scelta ovviamente però se capita il mazzo giusto con sinergia di incantesimi è un 3 e mezzo in constructed penso che ci siano aure migliori ma magari mi sbaglio lascio il beneficio del dubbio per me è un 2 e mezzo 3 continuiamo vibra nel muschio o un mana 1-1 tocco letale o una cattura 1-1 con tocco letale ci sta un ottimo bloccante e può attaccare impunemente oppure se ce la bloccano comunque si porta con con sé qualcosa quindi una cattura magari non è prima scelta ovviamente però io la prenderei senza problemi si può anche incantare oppure usarla per bloccare bestioni quindi ci sta la ganna è un 2 e 2 e mezzo in constructed a meno che non fate il tribale dettacce non ha molto senso ma ci sono già carte migliori quindi non è da prendere in considerazione ma ci sta un serpente magari facciamo il tribale serpenti annullamento mistico umana verde istantaneo metti un incantesimo bersaglio in fondo il primario del suo proprietario istantaneo beh è un'ottima carta soprattutto limited considerando tutti gli incantesimi che ci sono gli dei sono incantesimi e quindi questo è un modo per rispondere direi che in limited è da tenere in considerazione non troppo ovviamente ed è un 2 e mezzo 3 un'ottima rimozione per gli incantesimi in verde che può colpire anche creature se sono creature incantesimo quindi da tenere presente in questo set 2 e mezzo 3 in constructed ci sono rimozioni migliori per gli incantesimi questa costa molto poco però non penso che troverà spazio a meno che il meta non diventi pieno di incantesimi sicuramente può trovare spazio in sideboard ma non nel deck principale continuiamo cinghiale di nessian 5 mana 3 in colori 2 verdi creatura cinghiale 10 6 tutte le creature in grado di bloccare il cinghiale lo fanno quindi attira tutti i bloccanti avversari e sono costretti a bloccarlo lui attacca per un 16 probabilmente si porta quasi tutte le creature dell'avversario con sé ma non è finita qui ogni qual volta il cinghiale viene bloccato da una creatura il controllore di quella creatura pesca una carta è una merda totale è una verità talmente di merda che mi fa schifo questa carta si 5 mana per un 16 ma far pescare l'avversario quando perde una creatura lui pesca una carta e praticamente lui si si ricarica di minacce e risposte non è tollerabile per me è un no assoluto però comunque in alcuni casi può essere utile perché se l'avversario ha poca vita abbiamo attaccature noi usiamo il cinghiale per attirare i bloccanti e attacchiamo con le altre creature e lo uccidiamo e lui pesca però è morto e quindi non ci interessa molto ma la maggior parte delle volte l'avversario è felice di pescare carte e molto probabilmente se ha 3-2-2 ce lo uccide e lui pesca 3 carte quindi è un 3 è un 4 per lui perde 3 carte e ne pesca 3 e ce ne uccide una e quindi come se fosse un 4 4 carte cioè 3 carte per 4 quindi non è vantaggioso come scambio no non mi piace assolutamente ha delle buone statistiche ma non la prenderei mai è un 2 e mezzo in limited magari anche 3 ma non mi piace in in constructed no corno leottero nessian 2 mana 1 in colore 1 verde creatura insetto 2-2 all'inizio è il combattimento nel tuo turno se controlli un'altra creatura con forza pari o superiore a 4 metti un segnalino più 1 più 1 sul corno leottero nessian mi piace parecchio ovviamente se avete le sue energie con forza pari o superiore a 4 ci sarà grande soprattutto come drop iniziale che eventualmente diventa sempre più grosso ad esempio questa può essere incantata con quella carta la forza dell'idra che raddoppia i segnalini più 1 più 1 ogni turno quindi questo un'altra creatura deve essere però ok quindi non può essere lui che ha forza 4 cioè può avere forza 4 ma non fa triggerare il mettere il segnalino però mi piace compresso io la prenderei anche come 2 drop sincero alla fine magari non riuscite a sfruttare sempre questa sua passiva però quando la sfruttate un bonus niente male è un 3 3 e mezzo in constructed non lo so magari devo provare a fare un mazzo forza 4 in verde o verde blu o verde rosso o gold diventa sempre più forte può avere un senso può trovare un suo spazio diciamo che un 2 2 e mezzo continuiamo Girovago Nessia ha un satiro esploratore satiro 2 mana 1 in colore 1 verde e ha costellazione 1 3 ogni qual volta un incantesimo entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo guarda le prime 3 carte del tuo rimorio puoi rivelare una carta terra scelta tra esse e aggiungerla alla tua mano mette gli altri in fondo al tuo rimorio in ordine casuale allora questa abilità è sia utile che negativa perché comunque ci va a rimuovere tutte le carte buone dal mazzo cioè ce le va a mettere tutte in fondo noi ogni qual volta lanciamo un incantesimo guardiamo quelle 3 carte e prendiamo una terra magari c'erano delle carte che in quel momento ci servivano e le andiamo a mettere in fondo al mazzo quindi c'è da dire che poi quando andremo a rendere più sottile il mazzo avremo più probabilità di pescare roba buona invece che terra quindi c'è anche quel vantaggio lì nei primi turni soprattutto per continuare a colpire la terra ogni turno può essere utile però magari nei turni più avanzati può essere più il danno che il guadagno quindi secondo me è un 2 e mezzo barra 3 in limited in constructed è da valutare in un mazzo costellazione ma penso che ci sia di meglio sinceramente e quindi secondo me è un 2 2 su 5 andiamo avanti i guardiani del nexus tre mana due in colori uno verde hanno raggiungere sono 1-4 arcele satiro costellazione ogni qualvolta un incantesimo non è malvagio ci sta costa un po' però raggiungere può bloccare dei volanti e ti da un buon bonus ogni qualvolta entra un incantesimo perché guadagna due punti vita in limited può essere parecchio utile soprattutto se avete un mazzo con diversi incantesimi per farlo triggerare acquisire valore diventa sempre più più buono se non avete tanti incantesimi ha poco senso secondo me però nel mazzo giusto è una buona carta quindi per me è un 2,5 o 3 in constructed non penso che sia abbastanza buona ed è un 2 2 su 5 nilea dagli occhi acuti 4 umana 3 incolori 1 verde creatura incantesimo leggendaria dio ed è un 5,6 indistruttibile e fin tanto che la tua devozione al verde è inferiore a 5 nilea non è una creatura quindi è un incantesimo le magie creature che lanci costano 1 in meno per essere lanciate non è male come abilità passiva ci rampa ci permette di castare le creature con più facilità magari anche turni prima e ha un'abilità attivata che per 3 mana 2 in colore 1 verde rivela la prima carta del tuo primorio se è una carta creatura la aggiungiamo alla nostra mano altrimenti possiamo rimettere possiamo mettere nel cimitero abilità attivata non è niente male in limited ci permette di se becchiamo terra che non ci serve possiamo buttarla nel cimitero quindi ci fixa la pescata oppure possiamo pescare una creatura quindi non è niente male e lei è un 5-6 indistruttibile che entra con 4 mana e ci fa costare meno tutte le creature e al quarto turno beh diciamo che penso che al quarto quinto turno non sia difficile trasformarla in creatura per me in limited è un 5-5 è una bella bomba in constructed penso che ci siano 4 troppe migliori e non penso che troverà molto spazio a meno che non venga fuori un architipo verde devozione ma non ci sono tutte ste gran carte devozione in verde e direi che è un 3-5 3-5 su 5 ha buone statistiche ma a quarto turno ci sono cose migliori da fare in verde e il verde in questo momento ancora molto forte quindi ha l'imbarazzo della scelta al quarto turno però è un'ottima carta e mi piace parecchio non vedo l'ora di provarla apri pista di nilea 5 mana 4 in colore 1 verde un 5-3 con travolgere e le altre creature che controlli hanno travolgere un ottimo effetto inoltre è una creatura incantesimo quindi sinergia con gli incantesimi il limited io uno uno lo prenderei o anche due 5 mana su un tanti però il fatto che è da travolgere l'altra creatura è eccezionale poi un 5-3 comunque attacca bene e direi che è un 3 e mezzo su 5 in costa non penso che abbia le carte in regola costa troppo ed è un 2 su 5 capo caccia di nilea 4 mana 3 in colori 1 verde sciamano centauro quando capo caccia di nilea entra nel capo di battaglia è una creatura avversario che controlli prende più x più 0 fino al turno dove x pari la tua devozione al verde è un 4-3 è un ottimo unlimited è un 4-3 che entra per 4 buone statistiche in più ha un bonus che ti pompa un'altra creatura in base alla devozione al verde è un 4-3 e il 4 turno probabilmente sarà più 3-0 minimo quindi è un ottimo bonus ci sta è un 3 un 3 su 5 il limited è in costa ovviamente c'è di meglio non è una carta da costa l'intervento di nilea del ciclo degli interventi divini x due mani verdi secondaria scegli uno passa il rassegno al tuo memorio per trovare fino a x carte terra rivelale e aggiungi la tua mano poi rimescola il tuo memorio quindi ci permette di trovare qualsiasi tipo di terra in costacted questo può essere molto rilevante se abbiamo delle strategie basate su terra particolari quindi può essere molto utile ad esempio quando c'è la campo dei morti questa sarebbe stata una bomba ti vai a trovare 4 campo dei morti per 6 mana è ottimo e oppure anche solo 2 dipende dalla partita ma è abbastanza abbastanza buona oppure ti permette di trovare quella terra particolare che ti serve il campo di rovina che ti permette di distruggere un'attaca problematica oppure una terra doppia che per aggiustarti in mana è parecchio potente anche se costosa e poi l'intervento di Ninea infligge danni pari a doppio di x a ogni catura con volare è una board wiper per uccelli sostanzialmente è una board wiper per uccelloni ma non è una prima scelta ovviamente se la trovo come prima carta nel draft non la prendo sicuramente però bisogna tenere conto che in limite dei volanti fanno sempre la differenza quindi può essere una buona rimozione per volanti e per tanti volanti quindi può acquisire molto valore inoltre se giocate più colori ti permette di andarti a cercare le terra che ti servono eventualmente di svuotare il mezzo da terra in maniera da pescare poi solo quello che ti interessa quindi in limite di un 2,5 o 3 in costrattere ci sono delle combo sgravate secondo me che si possono fare ad esempio con il cavalcante delle fiamme possiamo pescarci delle terre e poi andare a scartare nel cimitero quando entra il cavalcante delle fiamme che quando muore infligge danno pari alle terre presenti nel cimitero quindi ci può essere quella combo lì quindi è una carta interessante per me è un 4 su 5 per il potenziale che può avere secondo me è un po' sottovalutata ma ha tanto potenziale continuiamo araldo di nix 3 mana 2 in colori 1 verde creatura incantesimo sciamano centauro è una creatura incantesimo è un 2,3 all'inizio del combattimento nel tuo turno una creatura incantata una creatura incantesimo versario che controlli prende più 1 più 1 e a travolgere fino alla fine del turno quindi può essere anche lui e diventerebbe eventualmente un 3,4 all'inizio del combattimento con travolgere è un'ottima creatura da limited io direi che si può prendere tranquillamente senza problemi anzi è da prendere per me un 3,5 su 5 è una creatura incantesimo adesso dissi che ragionevoli e inoltre ci da un bonus molto utile che è quello di travolgere è un più 1 più 1 non fa mai schifo io direi che è un 3,5 in costratt non penso sia abbastanza buona però comunque mi piace è un 2,5 antico germoglio di nix sono 7 mana 4 in colori 3 verdi una creatura incantesimo ed è un elementale quindi riserio rifoni abbiamo un nuovo amico con cui giocare ed è un 5,5 contravolgere e ha un simpaticissimo effetto se tappi un permanente per attingere mana produce invece il triplo di quel mana sostanzialmente ogni terra ci aggiunge 3 mana se abbiamo nisse in campo ci aggiungono ci aggiunge 6 mana si si comincia a essere veramente pericolosi non è leggendario quindi se ce ne sono due il triplo del triplo non si riesce neanche più a calcolare quanto mana aggiunge certo è che entra al settimo turno però diciamo che il verde non ha problemi a rampare quindi magari entra anche prima però non è una cosa che entra rapidamente diciamo e magari non so se il verde abbia effettivamente bisogno di tutto questo mana ha già diversi modi per ottenerne parecchio magari può essere messo in campo in maniera con qualche trick con qualche trucco magari rianimandolo ma in constructed ha del potenziale sicuramente è un 3,5 4 su 5 in constructed secondo me può essere pericoloso e divertente allo stesso tempo in limited non è che sia così fondamentale avere tutta questa mano nei turni più avanzati ed è un 5,5 contravolgere quindi non penso che possa essere così determinante in limited è un 3 su 5 in limited probabilmente conviene prendere una carta con una rarità più comune ma più consistente che ci permette di vincere quindi direi che il limited è meno ha meno valore rispetto a constructed è un 3 su 5 colosso nixiano 6 mana 3 in colori 3 verdi ed è un 6 7 creatura incantesima gigante ma come fila ci sta il limited è un 2,5 o 3 niente di più è una creatura camune quindi è una bella bombina da calare più avanti è un 6-7 quindi è una bella creaturona ed è una creatura incantesima quindi quello può essere rilevante in costrarte penso che ci sia molto di meglio ha 3 simboli verdi quindi per la devozione può essere utile presagio della caccia 3 mana 2 in colori 1 verde incantesimo con lampo quando entri nel campo di battaglia puoi passare il rassegno al tuo rimorio per una carta terra base metterla sul campo di battaglia tappata e poi rimescolare il tuo rimorio beh una rampa a 3 mana ci sta però ha lampo quindi può essere usata istantaneamente quindi ancora meglio e poi per 3 mana 2 in colori 1 verde sacrificiamo il poesaggio e profetizziamo 2 come tutti gli altri poesaggi negli altri colori ci sta è un buon rampo è un 3 su 5 in limited ci sta la grande in costrette forse ci sono dei rampaggi migliori ma è un mazzo che ha sinergia con gli incantesimi e può avere un suo senso quindi è un 2 e mezzo mi piace il fatto che puoi lanciarla anche nel turno all'avversario quindi è quello il vantaggio rispetto ad altre magie di rampaggio ok continuiamo lottatrice della banda feres 4 mana in colori 2 verdi guerriero centauro 4-4 per 6 mana quando entra nel campo in battaglia lotta confina una cattura all'avversario che non controlli beh un 6 mana 4-4 che entra nel campo è lotta quindi può tradare con un altro 4-4 sostanzialmente ma non è proprio il massimo della vita l'effetto non è male però costa parecchio al stesso turno mettere un 4-4 è un po' un po' triste sinceramente si che ti può andare a uccidere una cattura dall'avversario ci può stare il limited dai un 3 un 3 su 5 ma non è da prenderne troppe perché 6 mana sono parecchi come filler come ultima scelta ci può stare io non la prenderei sicuramente come prima scelta in constructed non è una carta da constructed troppo lenta cadere a picco ho una bella ristampa per un istantaneo che 2 mana uno in colore uno verde distruggi una cattura bersaglia con volare è una carta da side non è da main deck però considerando che per alcuni colori tra cui il verde i creature volanti sono un problema è una buona rimozione però non è una prima scelta da prendere come ultima scelta e da tenere per lo più in side secondo me inseguimento inesolabile 3 mana 2 in colori uno verde stregoneria rivela le prime 4 carte del tuo memorio puoi aggiungere alla tua mano una carta cattura e una carta terra scelta tra esse metti le altre nel tuo cimitero quindi un 3 mana pesca 2 sostanzialmente a velocità stregoneria un divinazione praticamente in verde beh ci sta in limited pescare non è malvagio soprattutto in verde e direi che ci sta è un 2 e mezzo 3 su 5 in constructed ci sono carte migliori sinceramente ma in limited ha un suo senso renata 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 nananana nananana oh oh renata 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 va bene basta così chiamata dalla alla caccia 4 mana 2 in colori 2 verdi creatura incantesimo leggendaria semi dio la forza di renata è pari alla tua devozione al verde quindi un x3 di base è un 2 e 3 ogni qualvolta scusa ogni altra creatura che controlli entra in campo in battaglia con un segnalino più 1 più 1 addizionale è come grungulli sostanzialmente l'effetto e beh il limite non è niente male perché comunque come effetto secondo me è meglio avere l'attacco in base alla devozione perché può diventare sempre più minacciosa invece che la costituzione che ce le fa diventare dei muri giganteschi ma che attaccano per poco quindi il limited è un'ottima creatura secondo me ma un 3 e mezzo su 5 in constructed 4 mana in verde sono tanti c'è il problema che come 4 troppo c'è la bestia dei cimenti che è un 4-4 con rapidità cautela e tocco letale non può essere bloccata da creature con forza inferiore a 2 il danno non può essere prevenuto se colpisce un giocatore infligge la stessa quantità di danni a un planet walker bersaglio controllato da un avversario quindi capite che quando nello standard c'è una carta come la quest in vista tutti i troppo a 4 a confronto fanno cagare a spuzzo diciamo che secondo me Renata non è neanche è una dei migliori semi di semi dei scusate oggi sono un dislessico però in standard non ha molte chance considerando che a 4 è già inflazionato però comunque è una carta divertente soprattutto il limite continuiamo ok restituire la natura le stampa è un istantaneo due mana uno in colore uno verde scegli uno distruggi un artefatto bersaglio un incantesimo bersaglio oppure esiglia una carta bersaglio un cimitero è un ottimo coltellino svizzero soprattutto una carta da sideboard non è la prima scelta ovviamente ma il limited potete potete prenderne una come ultima scelta campionessa di sete settessa finalmente una delle mie carte preferite di questo sete non vedo l'ora di provarla tre mana due in colori uno verde creatura guardiero umano uno tre con costellazione ogni qualvolta un incantesimo entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo metti un segnalino più uno più uno sulla campionessa di setessa e pesca una carta quindi eccezionale ti da un sacco di valore ogni incantesimo che vai a giocare che possono essere anche creature incantesimo o dei tutto ciò che è un incantesimo pesca una carta e in più lei diventa più potente sempre più potente e questa è un'ottima carta da incantare ad esempio quindi direi che per me è una bella bomba soprattutto è un mazzo giusto quindi è un 4 e mezzo su 5 il limited in costrattere bisogna vedere quanto l'archetipo sarà potente ma sono curioso di provarlo e mi sbilancio e le do un 4 su 5 bellissima questa carta ti da tanto valore supplici di setessa tre mana uno in colore doppio verde duido umano un 2-2 quando la supplici entra nel campo di battaglia guadagni punti vita pari alla tua devozione al verde beh non male è un un ottimo life gain in verde in mono verde e di base quando entra nel campo in battaglia solo lei ti fa guadagnare 2 punti vita perché è entrato al terzo turno quindi probabilmente ci saranno altre due creature con un segnalino verde quindi è molto probabilmente che ti guadagni almeno 4 punti vita che non sono male quindi da tenere in considerazione è un 3 su 5 il limite 3 e mezzo anche in constructed non penso che il mazzo devozione verde sarà sarà un qualcosa che sarà giocato quindi è un 2 e mezzo 2 però bella carta spadacina di setessa 2 mana 1 in colore 1 verde ogni qual volta ha costellazione un 2 e 1 ogni qual volta un incantesimo entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo la spadacina prende più 1 più 1 fino alla fine al turno beh è un filler ci sta un 2 drop che può essere utile ma non è niente di che non è prima scelta un 2 e mezzo addestramento di setessa è un aura 2 mana 1 in colore 1 verde incanta creatura che controlli quando l'addestramento di setessa entra nel campo di battaglia pesca una carta ottimo la creatura incantata prende più 1 più 0 minchia ma questa è una bella bombina comune è una carta che tutti i mazzi incantesimi vogliono giocare ti cicla ti fa pescare una carta e in più da travolgere il tuo ciccione che diventa sempre più grosso grazie gli incantesimi che gli applicherai sopra bella 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 forse la sto sopravvalutando ma il fatto che ti pesca una carta che ti da travolgere e ti da un più 1 più 0 non è niente male io la prenderei sicuramente è un 4 su 5 per me in limited in in constructed siamo un 3 su 5 ma è una carta che giocherei sicuramente e non vedo l'ora di provarla con la campionessa di setessa bella sorpresa wizard bravi danzatrice del boschetto di scola creatura incantesimo druido satiro 2 mana 1 colore 1 verde è un 2-2 ogni qual volta una carta terra viene messa nel tuo cimitero da qualsiasi zona guadagni un punto vita ok ho un buon effetto nella giusta strategia ovviamente di self millaggio 3 mana ha un'abilità attivata che per 3 mana 2 incolori 1 verde metti nel tuo cimitero la prima carta del tuo memorio quindi self millaggio beh da sola non dice niente cioè ti puoi self millare per 3 mana ma non è proprio efficiente magari nella giusta strategia può avere un senso però no in limited la prenderei come riempitivo se non c'è niente di meglio quindi è un 2 e mezzo un 2 2 e mezzo in constructed magari si può creare qualche strategia sopra anche se l'effetto che fa ti fa guadagnare solo un punto vita quindi non so quanto possa essere utile in certe situazioni però è una creatura incantesima quindi no è un 1 1 e mezzo tifonide vorace bestia serpente 4 mana 2 incolori 2 verdi e a fuga per 7 mana 5 incolori 2 verdi esiga altre 4 carte dal tuo cimitero e fugge con 3 segnalini più 1 più 1 dai non fa così schifo come sembra è un 4 4 che è da con 4 quindi è onesto non ha nessuna abilità evasiva questo è un malus ovviamente però nei turni più avanzati può ritornare come un 7 7 che non ci fa schifo per 7 mana che non sono però magari quando non si hanno più carte in mano e si ha tanto mana ma non si ha niente da fare questa può essere un buon mana sink nei turni più avanzati e quindi direi che in limited è un 3 su 5 secondo me è un buon una buona creatura da limited in constructed non penso che troverà mai spazio però mai dire mai magari c'è un archetipo fuga che nascerà non lo sappiamo ancora ma per me è un massimo un 2 su 5 benedizione del guerra spino 2 mana 1 in colore 1 verde incantesimo un aura incanta creatura che controlli quando la benedizione del guerra spino entra nel capo di battaglia la creatura incantata lotta confino una creatura avversario che non controlli la creatura incantata prende più 0 più 2 beh tipo non è malvagia anzi no non è per niente malvagia è una rimozione incantesimo è tipo morso rabbioso ma meglio meglio di morso rabbioso perché pompiamo anche la nostra creatura è un incantesimo così sinagia con incantesimo e quindi può essere una carta che può essere giocata in un mazzo che gioca aure perché la nostra creatura una grossa può essere usata come rimozione non mi dispiace per niente è un 3 e mezzo su 5 in limited invece in costratted un po' di meno un 3 un 2 e mezzo o 3 ma penso che la giocherò bene verde è stata una sorpresa rifugio di lupus alix 2 mana 1 in colore 1 verde incantesimo aura incanta terra ogni volta la terra incantata viene tappata per attingere mana il suo controllore aggiunge un mana verde addizionale ok tipo l'effetto di nissa questo non è proprio il massimo poi per 5 mana 4 in color 1 verde sacrifica il rifugio di lupus alix che è una pedina creatura lupus 2 verde attiva questa abilità sono durante il tuo turno no non è non è niente di che è una carta che si gioca solo per avere sinergia con altri incantesimi ma non è terribile sinceramente si che ti rampa per 2 mana ti rampa si possiamo dirlo ma poi lo andiamo a sacrificare per creare un 2 2 per 5 mana e lo possiamo fare soltanto durante il nostro turno dai no non è una carta che prenderei sinceramente è un 2 e mezzo massimo limited e in constructed forse no neanche non lo succede bo ne abbiamo visti tutti i verde e direi che la situazione è peggiorata secondo me il verde si è rinforzato ancora c'è delle belle delle belle carte tipo l'adria del boschetto di lisia la filatrice del destino la campionessa di setessa nilea l'antico germoglio dei nix power level del verde non è niente male e rimane rimane forte secondo me è un 4 un 4 su 5 sono stato alto con i voti ma secondo me il verde resta uno dei colori più forti dello standard e anche il limited è un colore sicuramente molto forte soprattutto se si fa sull'archetipo incantesimo vedremo il rosso però direi che si sono rinforzati tutti i colori per il momento probabilmente quello che si è rinforzato di più è il nero anche il verde non scherza affatto ditemi come la pensate qui sotto nei commenti sono sempre molto interessato alle vostre opinioni e mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale così continueranno ad arrivare altri video e ci vediamo al prossimo video Buenas Noce Buenas Noce Buenas Noce Grazie a tutti.